Buongiorno a tutti Ottoliner, ben ritrovati. Oggi torna con me Alberto Fazzolo per il consueto appuntamento del sabato mattina. Ciao Alberto, buongiorno. Mi hai trovato. Come vedete sotto, stanno scorrendo, vi scorre il rimando a metamorfosi. Vi ricordiamo che io e Alberto abbiamo iniziato, avviato ormai da un paio di settimane, il primo talk show di Ottolina TV con pubblico dal vivo, presso Friccicore via delle Acace 14 a Roma e nella settimana passata abbiamo nella seconda parte intervistato Fulvio Grimaldi. Trovate sia il primo blocco, quello di Alberto, in cui questa settimana si parlava Alberto di che cosa? Non mi ricordo il tema. Elezioni americane, ma come? Non ti ricordi? Sono passati tre giorni. È vero, scusate, stiamo lavorando. Giusto, ho sbagliato. Io sono stato corretto da diversi ascoltatori che mi hanno detto di non parlare di elezioni americane perché l'America è un continente in cui ci vivono in tanti, mentre quelle sono le elezioni degli Stati Uniti d'America, cosa ben diversa, quindi faccio ammenda e riconosco di aver sbagliato in questo. È vero. Come da crude, noi non siamo gli europei solo perché siamo l'Unione Europea, ci sta tanta altra Europa fuori di noi. Chiarissimo. E il secondo blocco, in cui invece abbiamo intervistato Fulvio Grimaldi, icona del giornalismo. Ci ha fatto molto piacere, insomma, poterlo avere qui su Ottolina. Tra l'altro, c'era la prima volta che veniva su Ottolina TV, è stato per me un onore, insomma, l'intervista. Alberto già lo conosceva da tempo, però per me, che sono, insomma, un po' alle prime armi in questo campo, chiaramente è stato un onore potermi confrontare con una figura storica di questo peso. Assolutamente, intervista spettacolare. Se non l'avete vista, andatela a vedere perché chi l'ha vista mi ha scritto in privato dicendo Ah, è fantastica, cioè, veramente, unico giornalista testimone del Bloody Sunday, cioè, veramente, ma delle cose, andate a vedere. Comunque, quest'altra settimana, sempre il mercoledì alle 18.50, via delle cace 14, presso Fricci Core, registreremo il prossimo episodio. Consigliamo caldamente di prenotarsi, non perché sia obbligatorio, vi facciamo entrare comunque, ma ci serve a noi per tenere il conto e quindi... Se c'è spazio, vi facciamo entrare comunque, eh, perché poi a un certo punto c'è la saturazione pure lì. Certo, 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 per carità. Però, noi vi chiediamo, proprio per potervi anche informare correttamente, di prenotarvi a metamorfosi.talk, chiocciolagmail.com, sta scorrendo ora sotto, quindi scriveteci lì se vi volete prenotare, basta che ci date un nome e cognome e il numero di quante persone siete. E questa settimana si parlerà di autonomia differenziata e avremo come ospite speciale per l'approfondimento Bobbo Craxi, con cui parleremo di Medio Oriente e, fatalmente, di Prima Repubblica. Proprio puntata scoppiettante, siamo emozionatissimi, quindi vi aspettiamo. Venite, chi è su Roma, venite, perché è una bella serata, ci si diverte. Per quanto riguarda invece il... Sì, ricordiamo anche gli ospiti del primo blocco, quelli in cui parliamo di autonomia differenziata. Io non volevo preannunciarli ancora, però vai, vai. Allora, continuiamo a lasciare la suspense. No, 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 ormai l'abbiamo detto, andiamo. Vai, ricordali tu, prego. Stefano Fassina, Natale Di Cola, segretario generale della CGL di Roma e del Lazio, Michela Ricale, che non ha bisogno di presentazioni su questi schermi, e ancora di meno ha bisogno di presentazioni su questi schermi, la nostra Clara Statello. La zarina, come... Inviare il tutto eccezionale in presenza a Roma, eh? Questa è la notizia. Eh sì, eh sì, eh sì. Quindi venite, vi aspettiamo. Comunque, andiamo invece sul Global Satur Day adesso, e inizierei dalla notizia dell'uccisione da parte dell'IDF di Sinwar, il leader di Hamas. Che ne pensi, Alberto? È una notizia, secondo te, attendibile, non attendibile? Cosa cambia ora? Prego. Sì, secondo me la notizia è attendibile, però farei una riflessione innanzitutto su questo patto. Tu perché mi chiedi se sia attendibile o no? Perché è già stata data diverse volte la notizia di Sinwar, e quindi come giornalisti io penso che ci dovremmo interrogare su un'altra cosa, prima ancora di andare nel cuore della notizia. quindi sul come vengono gestite nella stampa mainstream le notizie, perché ci sono state nei mesi scorsi diverse giornate in cui sono state fatte le prime pagine dei giornali di tutto il blocco occidentale, in cui si dava per certa la morte di Sinwar. Poi è sempre stata smentita con trafiletti negli interni. Quindi si crea un'aspettativa e non c'è, qui un problema deontologico emerge chiaramente, non c'è una correzione dell'informazione che ha la stessa enfasi dell'informazione mendace data in precedenza. Quindi questa simmetria nella gestione dell'informazione è anche questo una sorta di indottrinamento, una sorta di favore che si fa ad una parte piuttosto che all'altra. Ma detto ciò, secondo me è morto per davvero questa volta, le immagini, non sono proprio queste, queste sono al momento dell'uccisione, ma ci sono delle immagini successive quando portano via il cadavere, che ci sono dei particolari anatomici che lasciano pochissimo spazio al dubbio. Quindi secondo me è morto, ma la questione è come è morto. Qui si vede il video delle ultime istanti della sua vita, è morto combattendo, è morto con le armi in mano, è morto braccato dall'esercito israeliano, anche se probabilmente l'uccisione è venuta per casualità. Avevano visto che c'era un combattente e non avevano capito che fosse lui. E perché non l'avevano capito? Perché anche i soldati israeliani avevano assorbito la loro stessa propaganda. Cioè anche i soldati israeliani pensavano che fosse nascosto in un tunnel, dietro degli scudi umani di prigionieri israeliani, nulla di tutto questo. Lui stava al suo posto di combattente e stava combattendo come tutti gli altri palestinesi della resistenza e per questo non è stato riconosciuto e ucciso per caso, come sono stati uccisi tanti altri miliziani. Questo gli fa davvero tanto onore e fa onore a tutti quelli che resistono in Palestina, nonostante gli attacchi israeliani che sono sia militari che dell'informazione. E noi però, giornalisti occidentali, secondo me dovremmo essere particolarmente attenti a questo e cercare di ripristinare una corretta informazione. Ma dal punto di vista politico, quali sono le conseguenze di questa morte? Che ripeto, io do per certa, anche se molti hanno delle perplessità al riguardo. Allora, secondo me dal punto di vista politico-militare non cambia assolutamente nulla. Hamas è una grande organizzazione con compartimentazioni e ridondanza delle posizioni chiave, quindi possono essere immediatamente sostituiti tutti i quadri o i dirigenti che vengono persi, quindi o uccisi o arrestati di Israele e quindi dal punto di vista della lotta si prosegue senza tentennamenti. Ma la grande opportunità, secondo me, invece qui si presenta Israele, perché chi si è ficcato in un vicolo cieco che non sa come uscire da questa situazione a Gaza è proprio Netanyahu e secondo me la miglior cosa che potrebbe fare in questo momento con la morte di Simwar, quindi con un fatto anche mediaticamente estremamente eclatante, secondo me sarebbe quella di utilizzarlo come exit strategy. Cioè dire, l'eradicazione di Hamas, quindi l'obiettivo principale che ci avevamo dato, è sostanzialmente raggiunto e poi ovviamente non è vero perché un'organizzazione non si può eradicare così, un'organizzazione eradicata come Hamas, e quindi usarla come pretesto per disimpegnarsi da Gaza. So già che non lo farà, quindi è una mia verità, però se fossi nei consiglieri di Netanyahu sarebbe questa la nota su cui insisterei, perché sarebbe davvero in questo momento, secondo me, l'unica possibilità che è Israele per tirarsi fuori dal guaglio in cui l'ha trascinato il presidente. Ok Alberto, ahimè, e anche condivido questa analisi, e ti sposto di qua per parlare di questo, cioè rimaniamo sempre in Medio Oriente, gli attacchi all'Unifil da parte delle forze israeliane e il primo ministro Meloni che è a Beirut e ha parlato anche di questo. Prego Alberto. Sì, in realtà vediamo pure a chi hanno sparato, perché ci sono stati diversi attacchi alle postazioni dell'Unifil, che sono una forza multinazionale, e il primo attacco è stato fatto a una postazione gestita agli italiani, però che era in quel momento sotto con personale operativo di altri paesi, del sud-est asiatico, in due casi diversi, ma comunque è stata colpita per prima l'Italia. E perché questo, secondo me, per un motivo ben preciso, non ci sono casualità in questi generi di azioni, è tutto ben ponderato e tutto ben calcolato. Il fatto è che l'Italia si sta prestando ad avviare il G7 sulla difesa, e quindi si voleva dare un messaggio molto chiaro a tutti i paesi dell'Occidente collettivo che hanno espresso dei tentennamenti negli ultimi tempi, non tanto sul sostegno di Israele, sul non volersi far trascinare in quello che verrà ricordato dalla storia come un efferato crimine. Quindi il messaggio è arrivato forte e chiaro, penso, all'Italia e a tutti i paesi del blocco occidentale. Ma perché Israele attacca l'Unifil? Sostanzialmente per cercare di togliere un testimone e togliere qualcuno che potrebbe incastrarla sulle proprie responsabilità. Ma di questo ne abbiamo già parlato abbondantemente, quindi è meglio non soffermarsi, ma guardare su quelle che sono le conseguenze politiche. E la prima è una presa di posizione da parte del governo italiano, che come abbiamo già detto settimana scorsa con Crosetto ha fatto delle dichiarazioni molto forti, a cui però non ha seguito niente, ovviamente, come abbiamo scandagliato bene, ma poi c'è stato un passo successivo della Meloni che ha deciso di far seguire i fatti alle parole del suo primo ministro della difesa e è deciso di volare a Beirut. Per fare cosa? Niente, perché se voleva davvero fare con una chiarezza, non andava a incontrare i vertici di Unifil a Beirut, andava a Tel Aviv a parlare con Netanyahu e questa cosa anzi guarda bene dal farla, perché Netanyahu la tratterebbe come ha trattato i nostri soldati e dovrebbe scappare con la coda tra le gambe la Meloni. Quindi per scongiurare questo fa una grande passerella a Beirut, che ha uno scopo puramente mediatico, ma che dal punto di vista politico e dei rapporti tra stati, o sul piano tattico, sul terreno di combattimento, non sposterà assolutamente nulla. Però la Meloni otterrà un doppio risultato, appunto, sia salvare la faccia rispetto a come è stata bisfrattata dal governo israeliano, quindi anche conservare il consenso di tutto quell'elettorato sovranista che non poteva accettare un affronto del genere, ma dall'altro potrà divincolarsi da un'altra grande figuraccia che ha fatto sul piano internazionale, perché tutti quanti ricorderanno che il 12 ottobre doveva esserci a Reimstein, e ne abbiamo parlato anche nello scorso Global Saturday, il vertice della Nato, il primo anche col nuovo segretario generale, e saltò perché Biden aveva detto che era impegnato nella gestione dell'uragano. Molti sollevavano perplessità su questa cosa, pensando che potesse essere una scusa. Ebbè, adesso vediamo che invece Biden si incontra separatamente, quindi non con tutta la Nato, non con tutto il blocco dell'Occidente Collettivo, ma soltanto con quelli che contano, quindi hanno fatto un quartetto tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia, e l'Italia che oltretutto guida il G7 da difesa proprio in questi giorni è stata esclusa, quindi una figura terrificante, pessima, che la Meloni ha cercato di offuscare agli occhi dell'opinione pubblica facendo questa passarella a Beirut. Senti Alberto, ho cambiato parzialmente l'inquadratura, ma ho sbagliato, perché evidentemente non si vede quello che volevo farvi vedere, e mi sposto di qua, eccolo, ci sono ora, e ci spostiamo quindi un po' alla notizia della settimana. Il piano della vittoria, o di pace, che dir si voglia, di Zelensky, che promette che vincerà la guerra, la guerra finirà perché loro stanno per vincere. Che ne pensi? Cioè c'è tutto un progetto assurdo, vai! Allora, è quadrato subito bene il problema, ci sono tutti gli elementi già sul tavolo. Innanzitutto le parole, piano per la vittoria o piano per la pace? Beh, Zelensky è andato girando per il mondo per diversi mesi presentando lo stesso piano con due nomi diversi a seconda di chi era l'interlocutore. Detto banalmente, quando andava a parlare in Vaticano lo presentava come piano per la pace, quando andava a parlare all'Unione Europea per poter attingere ai fondi per la pace dell'Unione Europea lo presentava come piano di pace, ma in tutti gli altri paesi che lo sostengono in maniera incondizionata lo presentava come piano della vittoria. Adesso finalmente è stato presentato ufficialmente al Parlamento e sappiamo che si chiama piano per la vittoria, quindi ci ha preso in giro quando gli serviva di avere delle altre entrature, storpiando il nome. Quindi questo è il primo elemento politico su cui riflettere. Il secondo è un elemento anche giornalistico, anche qui ritorniamo sulla nostra professione con sempre maggiore insistenza, perché tu giustamente hai detto che era la notizia della settimana, e hai fatto benissimo, mi sembra che hai usato anche il passato o il presente, comunque era la notizia principale della settimana, perché questo piano per, chiamiamolo vittorio, che dir si voglia, è stato presentato con grande enfasi anche questo su tutti i giornali fino al momento ben preciso, cioè fino a quando è stato svelato e quando ci si è resi conto di che cialtronata che era, è stato deglassato anche qui a notizia di fondi giornali o tra filetti in pessime posizioni, perché sostanzialmente è tutta fuffa, perché questo piano si articola in cinque punti, che vi vado a leggere sintetizzati, l'ingresso della Nato in Ucraina e viceversa, quindi l'Ucraina nella Nato, attacchi in profondità sulla Russia, deterrenza missilistica non nucleare, condivisione con i partner delle risorse minerari ucraine e dopo la guerra mandare truppe ucraine in altri paesi dell'Europa. Sono questi cinque punti, in più ci sarebbero tre allegati segreti, scusate che forse verranno resi noti più avanti, ma che comunque non cambieranno assolutamente nulla. Quindi questi cinque punti io ve li traduco da quello che è il mio punto di vista, poi ovviamente ognuno li può interpretare come gli pare. Il primo punto, quello sull'ingresso della Nato, è sostanzialmente il fulcro del piano, cioè sostanzialmente l'Ucraina dice io la parte mia l'ho fatta per questa guerra, adesso entro nella Nato così la Nato combatte al posto mio, cioè noi dovremmo andare a crepare per Zelensky, dovremmo fare la guerra per lui, per andare a difendere questo suo progetto scellerato di nuova Ucraina. Il secondo punto sostanzialmente si traduce nel fare la guerra a tutto campo, ma non tra Ucraina come potrebbe in qualche momento diventare in questa fase, che è già delicata, se diventasse una guerra a tutto campo tra Ucraina e Russia sarebbe un escalation non da poco, ma qui si va ben oltre, perché l'escalation dovrebbe essere tra la Russia e tutta la Nato, quindi vi lascio immaginare cosa si possa arrivare a fare. E lo esplicito anche il terzo punto, quello di schierare una deterrenza missilistica non nucleare si specifica, ma cosa vuol dire? Vuol dire che l'Ucraina vorrebbe far mettere sul proprio territorio e su quello dei paesi che confinano con la Russia, dei missili che dichiarano essere non nucleari, ma come abbiamo detto anche altre volte da questi schemi e come ci insegna anche il buonsenso, non è il missile essere nucleare, è la testata del missile essere nucleare, quindi il missile che uno mette da una parte o dall'altra fuori è identico, tu non puoi sapere che cosa ci sta dentro, quindi il fatto che una persona affidabile e credibile come Zelensky mi venga a dire che non ci sono le testate nucleari dentro, a me mi lascia sostanzialmente un po' perplesso, io se fossi in Putin insomma la prenderei come va presa questa chiesa. Esatto, e quindi sostanzialmente sarebbe quello, questo è il punto per cui si è scatenato il conflitto nel 22, perché Putin diceva non mi potete mettere i missili sotto casa, invece Zelensky insiste su questa cosa come se in questi due anni non fosse successo nulla, però lo andasse a dire al suo popolo. Poi il quarto punto, quello economico, quindi di condivisione con i partner delle risorse ucraine, sostanzialmente che vogliono continuare sulla politica di spartizione delle ricchezze tra grandi potentati, quindi concentrazione della ricchezza nei grandi centri economici a discapito di quella che è la sovranità popolare sulle risorse minerarie. E l'ultimo punto, attenzione che per certi versi è il più insidioso, sempre che non si arrivasse all'olocausto nucleare ben prima, il punto sull'inviare truppe ucraine in altri paesi dopo la fine della guerra in Ucraina vuol dire che anche qualora andasse tutto come pensa Zelensky, cioè che sconfiggono la Russia, la cacciano fuori da quelli che lui considera i confini ucraini e che quindi si risolve tutta la questione lì, questi vogliono spostare la guerra da un'altra parte in Europa, ed è chiaro che la vogliono spostare nel Baltico, però l'elemento che c'è di fondo è che nella loro visione strategica c'è la guerra permanente e la destabilizzazione permanente del nostro continente. Ecco, ci vogliamo far trascinare in tutto questo? Io penso che chi vuole bene alle nostre terre non si può far coinvolgere in una pazia del genere. E come non concordare con te? Tra l'altro, negli ultimi giorni Zelensky parlava di presenze nordcoreane, diceva, l'accordo con la Russia e il nordcoreano non è più solo di armi, ormai gli mandano anche gli uomini al fronte, diceva, sono nell'area di Mariupol, va bene, insomma, cose, boh, così, un po' così, però il punto interessante è che pure la Corea si sta scaldando in questi giorni e come diceva Giuliano qualche giorno fa, la Corea del Nord ha di forte l'esercito di terra e sta distruggendo tutte le strade. Ora, almeno che non si vogliono suicidare invadendo via mare, dove invece è più forte la Corea del Sud, capiamo bene che questo non è un segno di guerra imminente, è un po', è il classico, diciamo, rialzo delle tensioni di confine che in quella penisola è caratteristico. Senti, dalla Russia e dalla Corea, io mi sposterei, ti mostro immediatamente quella scheda, su, andiamo su un bell'articolo del Faro di Roma, che è una delle riviste con cui collaboriamo, e cioè il prossimo forum di Kazan, l'incontro dei BRICS. Dal 22 al 24 ottobre. Questa, secondo me, è la dimostrazione di quanto l'Occidente sia miope e concentrato solo su se stesso. Sta cambiando il mondo, il vertice di Kazan avrà una portata storica, e in Occidente non si sa neanche cosa sia, non si conosce il fatto, non si segue la vicenda, sono soltanto alcuni pochi addetti ai lavori o persone con pensiero critico, come possono essere gli ascoltatori di Ottolina, a capire qual è la vera portata di questo fatto, e non è soltanto per l'adesione o la richiesta di adesione di tanti nuovi paesi, come può essere la Siria, Cuba, e attenzione, anche il nuovo Sri Lanka, che è una questione fondamentale, un raggio di speranza per tutti i comunisti del mondo, che il nuovo governo comunista dello Sri Lanka abbia immediatamente chiesto l'adesione ai BRICS. Il problema è che qui ci sta una concentrazione della popolazione mondiale. Anche la Palestina, Alberto, anche la Palestina, scusa se l'interruzione, prego. Sì, lì è un po' più complessa la questione, però penso che con Sri Lanka sia un po' più spiamata. Sì, anche perché, l'abbiamo già detto pure in precedenza, tre quarti della popolazione mondiale, dei paesi del mondo, scusate, riconosce la Palestina, ma i BRICS sono la concentrazione principale a questo punto di popolazione, di territorio, estensioni territoriali e di ricchezze, sia in termini minerali che in termini di produzione economica del mondo. Quindi è lì che sta andando questo pianeta, e noi, piccolo occidente collettivo, piccola scheggetta residuale di quello che è stato un grande impero del passato, non ce ne rendiamo conto e non ce lo vogliamo raccontare per non ammettere il fallimento del nostro sistema economico e politico e anche, per certi versi, sociale. Quindi, secondo me, quello che bisogna fare è prestare la massima attenzione a questo fenomeno che sarà l'elemento cardine della trasformazione politica e sociale del nostro pianeta nei prossimi anni. Senti Alberto, a questo punto ci spostiamo a Taiwan. Cosa sta succedendo attorno a Taiwan? Io questa giornata, questo Global Saturn, lo sto incentrando molto sulla comunicazione, lo facciamo sempre, ma oggi ancora più del solito, perché a Taiwan sostanzialmente succede quello che succede con una certa frequenza e con una certa ritualità a un certo punto. Cioè ci sono delle esercitazioni militari che fanno giustamente alzare il livello della tensione, perché se la Cina fa delle esercitazioni e delle manovre nei pressi di Taiwan, chi sta a Taiwan lo può vedere come una minaccia, perché c'è un avvicinamento delle truppe ai propri confini e quindi a sua volta innalza il livello di allerta e questo può innescare una spirale di tensioni che può sfociare in qualcosa di dispiacevole, mettiamola così. È un meccanismo naturale, fisiologico, che i giornali italiani trattano con dovizia di particolari e sul quale io non mi sento di accepire in alcuna maniera. Ma, e qui arriva il problema, se vale questa regola, e io penso che valga, deve valere per tutti. Quindi perché i giornali italiani parlano di queste esercitazioni a Taiwan che stanno a centinaia di migliaia di chilometri da noi e non parlano del fatto che lunedì scorso è iniziata l'operazione della Nato sui paesi del nord Europa, esercitazione di attacco nucleare contro la Russia che durerà due settimane e si chiama Steadfast Nun. Cioè, dei fatti di casa nostra non ne parliamo ma parliamo di quelli che stanno lontanissimi da noi perché sennò gli si crea il cortocircuito del fatto che se questa cosa aumenta le tensioni lo può fare soltanto uno e non lo può fare l'altro. Quindi la simmetria, il doppio standard gli crea una contraddizione che poi difficilmente potrebbero gestire. Quindi quello che vuole fare questa trasmissione è tenere un occhio aperto su tutto il mondo, sul sud, ma non solo sul sud del mondo per cercare di avere più lucidità nell'affrontare anche le questioni di casa nostra. Senti Alberto, io ti ringrazio. Anche oggi abbiamo concluso il nostro giro attorno al mondo. Allora, abbiamo un po' di impegni da ricordare a chi ci sta guardando in questo momento. Partiamo quindi da Metamorfosi. Vi ricordiamo, mercoledì 18.50, Via della Cace 14, Roma. Lo speciale sarà con Bobo Craxi, la prima parte sarà sull'autonomia differenziata con Michela Arricale, Clara Statello, Natale di Nicola e Stefano Fassina. Se venite è meglio prenotarsi metamorfosi.talk, chiocciolagmail.com così ci date una mano a farci un'idea su quante persone verranno. Poi abbiamo anche un evento dove sarò io domani a Terni che ve lo mostro immediatamente per parlare di Palestina. Eccolo qui. Si aggiunge al palco. Comunicazione e guerra di occupazione dove ci sarà un dibattito e lo faremo io e Patrizia Cecconi. Ci saranno poi altre attività. Sarà una serata tutta quanta dedicata al tema Palestina. Vi aspettiamo. Domani alle 18 ci sarà questo incontro e dibattito. E poi voglio anche ricordarvi per il... E poi giuro che abbiamo concluso. Per il 20 Alberto lo citava. Citava la nostra buona Michela Arricale che mi chiedeva insomma di parlare di questo incontro che si terrà il prossimo 20 ottobre alle ore 10 presso il nuovo Cinema L'Aquila per costruire insieme una campagna referendaria per l'ablocazione totale riguardo all'autonomia differenziata. E per mettere in discussione le fondamenta stesse della legge Calderoli a partire dalla riforma del 2001. Questo incontro è indetto dal comitato primo giugno e casca a fagiolo con il fatto che Michela Arricale verrà proprio a parlare di autonomia differenziata questo mercoledì da noi a Metamorfosi. Quindi chiunque sia interessato a questi eventi vada a Metamorfosi neanche ve lo dico vi aspettiamo se siete su Roma dovete venire perché chi non viene è Corradino Mineo. Questa volta lo dico io queste cose le battute di Giuliano questa volta ve lo dico io perché so che vi fanno impazzia ciao Liner ciao a tutti alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti